Ma hai visto che siamo tornati a casa piccolino? Dai piccolo Piano, lo prendo per le gambe, non per le orecchie Anche l'ho curato fino all'inverosimile fino adesso Femmine, femmine, femmine Questa è anche segnale marcato, giusto? Anche il cane l'ha riconosciuto, cosa fa il cane? Perché l'ha nusa? Lo vede che animale è? Lo riconosce? Vediamo se trovo la mamma adesso Piano La chiami la mamma, la chiami, la chiami Vediamo quando c'è un agne lì Quella zoppa E' quella? Che fantastico, guarda Che fantastico, guarda che animale Ecco lì, il piccolino che continua a allattare è la mamma che lo accarezza, fantastico ragazzi Grazie Grazie